il barelliere a che serve la vita di vb da molti anni faccio il barelliere dell'unità alzi e accompagno i malati all'urdo un mese fa ho partecipato a una funzione religiosa dove ho visto un ex suora di clausura che pregava era di una bellezza sconvolgente appena ho potuto le ho chiesto sorella qual è il suo nome io non ho nome mi ha risposto quanti anni ha io non ho età mi ha risposto commento ecco un esempio molto avanzato di consumazione dell'io